ok sono diventati i ministri della difesa e secondo te vado a fare un'intervista proprio con Beddozzo come si chiama adesso questo Beddozzo ma siamo seri? Beddozzo hai sentito che manco subito i piedi ti vuole per quanto fai schifo la faccio e te mi stai a vista Comandante lei ha fatto 46 quelle io non ci credo lo dimostra Beddozzo scrivo Comandante Tonino Giacchetta